Questo programma è offerto da Target Disco Club via Fanelli 234 a Valenzano, Bari. Amici di Movida TV Latina, siamo questa sera qui al Target dove siamo tornati per un ennessimo appuntamento targato Mondo dei Bali Caraibici. Questa sera ci saranno qui al Target degli ospiti locali ma conosciuti anche a livello nazionale e internazionale. Quindi restate con noi e seguitici in questa meravigliosa avventura. Sono in compagnia del titolare del Target, Flavio. Ciao Flavio, buonasera. Buonasera a voi. Allora, come dicevamo prima, questa sera ci sarà un grande evento qui al Target e chiediamo a Flavio di che evento si tratta. Buonasera, ripeto, sono contento di rivedervi. Ormai è diventato quasi un appuntamento fisso. Io mi trovo benissimo con voi, con Telebari, con lo spettacolo, con il programma che voi mandate in onda. Ci vediamo sempre quando c'è uno spettacolo, una serata particolare. Stasera è un grande evento, anche se è di domenica, noi solitamente l'abbiamo fatto di mercoledì o di sabato, però stiamo spingendo, lanciando e facendo in modo che continui questa domenica latina al Target. Stasera c'è un'esibizione dei tre gruppi principali che abbiamo, Bari e credo anche in Puglia, per non dire forse anche in Sud Italia, di ballerini di latino. Non scendo nello specifico perché non è il mio campo, non sono abbastanza tecnico. Lo spettacolo si chiama La Leyenda, credo che si dica così, e loro sono Nuova Generazione, Miracle Locura e Full Project. Sono i ballerini principali, stasera faranno una coreografia unita tutti quanti insieme ed è una cosa bellissima, io sono felice anche di pubblicizzarli perché vorrei essere il promotore per quello che mi riguarda, per lanciare loro, mi auguro il massimo della fortuna in Italia, in Europa e chissà anche nel mondo, lanciare la produzione nostra, la produzione locale, quella barese, quella pugliese, quella, la vera essenza. Nel mio piccolo cerco e spero di riuscirlo a farlo in questa maniera. Ok, allora sei stato veramente molto esauriente nell'illustrarci quello che ci sarà questa sera, però noi sappiamo anche che ci sarà anche una piccola sorpresa, c'è la festa di un vostro componente dello staff, vero? Un nostro componente dello staff fondamentale innanzitutto direi, lui è il grande e unico e mitico DJ Pino Valerio, ha compiuto, si dicono gli anni, per i maschietti si possono dire? Sì, per i maschietti sì. Non lo diciamo, dai, chissà, magari avrà detto a qualcuno che ne ha fatti 38-37, chissà, quindi non gli dico gli anni, e il compleanno di Pino Valerio, stasera lo festeggiamo, io sono felicissimo che lui lo possa festeggiare qui insieme a tutti quanti noi, sono fiero, c'è anche una sorpresa da parte mia, gli ho regalato la torta, gli abbiamo regalato la torta, lui non lo sa ancora, quindi sono contento perché lui è uno dei migliori DJ latini che abbiamo in Puglia. e mi collego anche ai ragazzi miglior DJ, migliori ragazzi che si esibiscono, la bella gente, miglior staff, miglior organizzazione, che altro? C'è tutto, sia la domenica, sia il mercoledì, c'è tutto, abbiamo di tutto. Siamo cubano, spagnolo e africano, siamo la mezcla perfecta, la combinazione più pura, la più grande creazione, siamo cubano, spagnolo e africano, bendito sia il Signore, portando tanta pimienta, tanta sabrosura e tanto coraggio, siamo cubano, spagnolo e africano, a chi non qu'era che vamo, poniamo la cosa buona, siamo candela, gozano, ma che buzo, sono cubano, permesso, allora sono in compagnia di questi grandiosi ragazzi questa sera, questa sera come abbiamo detto ci sarà un bellissimo spettacolo in compagnia di tre gruppi, tre gruppi principali della Puglia, ormai sono conosciutissimi anche in Italia e all'estero, che sono i Miracle Locura, Full Project e Nuova Generazione. Allora iniziamo a presentare uno per volta i protagonisti di questa bellissima serata, allora tu chi sei? Ivana, Miracle Locura. Ok, tu invece? Leo, Nuova Generazione. Ok, e invece tu chi sei? Ciao, Gigi, Full Project. C'è Gigi, e invece adesso qui chi c'è? Michele, Miracle Locura. Ok, e ultimo, ma non per importanza? Roberto, De Miracle Locura. Ok, adesso qui invece alla mia destra abbiamo i portavoci, i responsabili dei gruppi, però responsabili solo per l'intervista, dai, facciamo così. Allora iniziamo a presentare il primo che è? Matteo, Nuova Generazione. Invece qui questa bellissima ragazza qui al centro, invece tu come ti chiami? Adele, Miracle Locura. Abbiamo anche Adele, e poi qui il nostro vecchio amico, abbiamo fatto altre interviste con loro, che è? Gigi dei Full Project. Ok, Gigi, allora, quello che ti volevo chiedere, raccontami un po' come nascono i Full Project, e come nasce questo progetto di questa sera. Allora, i Full Project, come già sapete, sono due uomini, io e mio fratello Gigi, e niente, facciamo degli spettacoli di Pasitos, e niente, ci siamo trovati con questi amici, e sottolineo amici, per questo nuovo spettacolo, oggi lo vedrete, speriamo che piacerà al pubblico, anzi, ne saremo convinti. Ok, grazie Gigi, adesso, adesso parliamo con questa bellissima ragazza, che è Adele, Adele, adesso raccontami come nascono invece, i Miracle Locura, quante persone, da quanti componenti, è comportato, e poi, questa sera, raccontami un po', cosa farete. Allora, i Miracle Locura nascono nel 27 dicembre, di due anni fa, quindi quest'anno hanno fatto due anni, siamo due coppie, balliamo per lo più in linea, acrobatico, e niente, quest'anno sarà importantissimo per noi, perché abbiamo le nostre prime turnie all'estero, e abbiamo vinto una gara importante, e niente, anche per noi, loro sono amici, per lo più questo, quindi questo progetto è bello, ed è importante soprattutto perché nasce da un'amicizia. Grazie Adele, e adesso tocca a te, raccontaci un po', anche tu, come nasce il tuo gruppo, e dici un po', quella che è l'esperienza di questa sera, come la state vivendo? Allora, il nostro gruppo nasce, da un'idea del mio amico Leonardo Terzulli, presso la scuola di ballo del mondo del Caribe, che dire, siamo due ragazzi, due giovani, che abbiamo tanta voglia di crescere, studiamo, e da quest'anno siamo anche in un gruppo, il maestro Jonathan ci ha chiamato, e da quest'anno faremo congressi con lui. Niente, per quanto riguarda tutto questo gruppo, la lenda, come ha detto prima Gigi, siamo amici, quindi è bello fare qualcosa tutti insieme, noi che siamo della stessa città, e condividiamo la stessa passione. Ok, io vi ringrazio tutti, vi do un grosso in bocca al lupo questa sera, se volete potete anche... Ci teniamo a ringraziare il Target, e ovviamente dedichiamo questa coreografia a Pino Valerio, che oggi festeggia il suo compleanno, quindi noi tutti facciamo gli auguri a Pino Valerio, e la dedichiamo a lui e a Flavio, grazie. Ok, allora ragazzi, se volete potete salutare a vostro modo il pubblico da casa, guardando la telecamera. Full Project, dire che lo cura in un unico solo show, la legenda qui al Target. Sono in compagnia di uno dei maggiori esponenti della musica caraibica, qui accanto a me ho il piacere di avere il maestro Ciabotin, buonasera. Buonasera, buonasera. Come mai qui da queste parti questa sera? Praticamente, devo dire la verità, sono stato coinvolto con tanti amici, che mi hanno fatto venire qua, è la prima volta che vengo qua, in questo bellissimo locale, che mi hanno parlato tantissimo, ed è veramente... cioè, è una gioia, perché ho incontrato tanti amici, e soprattutto ho incontrato una persona che mi ha fatto venire qua a Bari, perché io sono arrivato da Cuba nel 98 a Pescara, da Pescara nel 2004 ho deciso di trasferirmi a Bari, e la prima persona che ho incontrato qua è stato Miguel, eccollo là, eccollo là. Abbiamo un amico dietro alla telecamera. si può dire bastardino, bastardino, quel bastardino mi ha fatto venire qua, e mi ha accolto come un fratello, come un amico, e grazie a lui ho fatto la mia storia barese, o pugliese. conosci i gruppi che si esibiranno questa sera qui al Target, mira che locura, nuova generazione, full project. e siamo tutti amici, quindi tu immagina che non lo devo conoscere, li conosci tu, non li conosco io. Cosa ne pensi di questi gruppi? Guarda, per me non c'è differenza fra uno e l'altro, per me siamo tutti bravi, o sono tutti bravi, basta che manifestiamo e portiamo la musica gara ibica avanti, e devo ringraziare loro, devo ringraziare i DJ e i ballerini, le scuole, e voi che perdete, nel buon senso la parola, perdete il vostro tempo in avvicinarci al nostro mondo, che per noi è l'unica cosa importante, è l'unica cosa bella. Ok, ringraziamo il maestro Ciappottin per l'intervista, a cui auguriamo una buona serata. Grazie a voi, un bacione. Sono in compagnia di due amici qui al Target, che vado subito a presentare, qui alla mia destra abbiamo... Graziana. E qui alla mia sinistra abbiamo Fabio. Allora iniziamo per ovviamente per galanteria da Graziana. Graziana, tu da quanto tempo balli? Da sette anni. Ah, sarai davvero brava allora. Eh, insomma, me la cavo. Dobbiamo chiedere a Fabio allora, se sei davvero brava. Allora Graziana, come ti trovi qui questa sera, ti stai divertendo, bella serata? Tanto, è una bellissima serata, mi sto divertendo, ho ritrovato tantissimi amici dopo tanto tempo, bello, tutto bello. Graziana, qual è il tuo pezzo caraibico preferito? Eh, lo svanvan, la banamatanza. Ok, adesso tocca a Fabio. Fabio, allora dimmi un po', tu da quanto tempo balli? Da quattro anni. Da quattro anni, anche tu sarai un professionista. Eh, sì, me la cavo. Sei un maestro già, per dire. No, maestro no. No, non me la posso permettere ancora di essere maestro. Tu che conosci Graziana, è brava Graziana a ballare? Sì, sì, Graziana la conosco ed è molto brava a ballare. Molto spesso balliamo insieme, quindi comunque... Abbiamo avuto conferma allora. Allora, il tuo pezzo preferito Fabio? Il mio pezzo preferito è lo svanvan, svanmo scubano. Ok, cosa ne pensi di questa bellissima serata, questa sera? è una bella serata e io invito anche chi non balla ad affrontare questo mondo perché è molto bello. Ok, ringrazio Fabio e Graziana per la partecipazione. Posso fare un gioco? Sì, certo. Posso salutare un mio amico, Canarino, che si chiama, e gli amici di Mall Bari. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.